Sbigo attacco! Oh no, Svinub! Gli ha tirato letteralmente un calcio proprio ed è volato via come un pallone da rugby. Sì, ha fatto pure il rumorino, tipo... Tipo, Super Santos che si disperde in una tempesta in America alle 5 di pomeriggio. Ho sfidato i miei amici, Lars e Darren Blaze, sui remake di Pokémon Diamante e Perla. In che modo? Beh, ora ve lo spiego. Innanzitutto avremo a disposizione 15 minuti per catturare massimo 6 Pokémon nei sotterranei di Sinnoh e una volta terminato questo quarto d'ora dovremo affrontarci in una sorta di triangolare. La prima sfida sarà tra Eren e Lars, la seconda tra me ed Eren e infine l'ultima tra me e Dani. Risulterà vincitore colui che riuscirà a battere entrambi gli sfidanti. Oppure potrebbe anche finire in pareggio, c'è questa possibilità... Prima di cominciare vi ricordo che tutti i giorni tranne la domenica sono in live sul mio canale Twitch, link in descrizione. Diamo quindi il benvenuto a Eren ed Lars. Ciao patatini, come state? Ciao, poche fanatici, ben ritrovati. 15 minuti per catturare 6 Pokémon e io ho già sbagliato d'asto, che poi potremo utilizzare dove cacchio ci pare. Cioè l'hai iniziato a fare, io ero in volo, va bene, sto scendendo... Ma infatti tu hai detto sì... Ero un sì non proprio convinto, dovevi capirlo. Dani scusami se ancora non riesco a capire bene i tuoi segnali misti. Nessuno ci riesce, tranquillo. No, non dire così. Volevo solamente dirvi che ho scavato la fossa davanti alla statua di Palkia a sfregio per la città. Ci sta, ci sta. Vabbè, tanto alla fine è un buchetto, lo ricoprono con un po' di terra. No, però mi piaceva fare questa gogliardata. Ma ci sta. Ah, mamma mia, che po' che bullo. Non come me che sono un po' che bravo ragazzo. Sì, Dani, facciamo finta di credere. Sei un po' che di buono. Comunque, buono, io sono appena sceso nei sotterrani per davvero mo'. Io ho ingaggiato il primo Pokémon, ma non so se mi piace abbastanza. Non so se è una cosa seria. Lo so. Eh, Dani, fai con calma. Cioè, fai un paio di appuntamenti. Mi raccomando, non baciarlo fino al terzo appuntamento. Che Pokémon è, soprattutto? Eh, non te lo dico. No, no, perché vorrei capire se sia baciabile o meno. È Onyx. Beh, baciabile. Ci puoi fare tutt'altro con Onyx, volendo. Te lo ficchi nel cuo'. Vale la Master Ball? Se vuoi usarla, sì, sei un po' un coglione, ma se vuoi fai pure. Tier, dobbiamo prendere tre Pokémon, giusto? Allora, sei. Fino a un massimo di sei. Ma posso prenderne otto e scegliere? Tecnicamente sono i primi sei, però se lo fai a sgabuffo nessuno lo scoprirà mai, Sivo. No, sarò onesto anche perché al momento sono a zero. Sono passati quattro minuti, io non ho neanche un Pokémon, tu ne hai catturati. Sto prendendo il secondo, tipo. Ah, minchia. Io voglio condividere un dato con voi. Vai. Eh, va bene, vai. Allora, io ho 19 Pokémon catturati. Io ho 19 anni. Più 12. Ok, hai catturato il primo. Silenzio! Cosa, non volevo? No, figa, c'ho un'evoluzione in corso, mo'. Che io mi sono perso a fare il Living Dex, no, durante le live. Quindi mocio tutti quanti Pokémon che si evolvono. Stupido Tier, ecco cosa ti meriti per prendere Pokémon seriamente. Scusami, lasciami fare il virginello una volta ogni tanto, che cazzo. Io te lo lascio fare, ma come vedi, poi è il karma che si mette contro. Cazzo, scanto, c'hai ragione. La mia ragazza mi ha lasciato. Quando te la sei fatta la ragazza? Te e lei eravate in salotto. Invece che andare a salutare lei, mi sono messo a strusciarmi su di te. Eh, se posso anche dire la seconda parte? Dopo che ha salutato me, ignorando la sua ragazza proprio bellamente, è andato verso di lei, che era visibilmente seccata, l'Italia ha dato un buffetto sulla coccia e fa... Cia. Cia. E mi non cia. Pensavo fosse per il seno sessuale. Tu non sei mai riuscito a conquistarmi con le parole, eccetera. Non mi hai mai offerto la cena giusta. La cena giusta? Quale sarebbe la cena giusta? Pesce. Pesce te l'ho offerto più e più volte. Perché non può funzionare tra di noi. Per questo motivo. Sei così infantile. Voglio una persona seria che mi sappia trattare come il re che sono. 50 anni a casa con i tuoi. Una storia italiana. Regia di? Ehm... Sorrentino. Ah, pensavo ai fratelli Vanzina, mi aspettavo. Ok, terzo Pokémon catturato. Chi è il protagonista? Massimo Boldi che fa un 50enne che vive ancora a casa. Ma Massimo Boldi ha almeno 87 animo. Ma lì farebbe il 50enne perché è un film, Tierar. Ah, giusto, giusto. Tipo i 35 anni che fanno gli studenti delle superiori nei film americani. Esatto. Tipo io che cerco di fare un documento falso per riscrivermi al liceo artistico nel 2019. Non succederà mai. Madonna, il giorno che me lo lasceranno fare sarà la vittoria della giustizia italiana. Io andrò in tribunale per portare avanti i miei diritti. Signor giudice, io ho il diritto di ripetere il liceo di nuovo anche se mi sono già diplomato. Dani, pensa a quanto ti romperesti i coglioni. Io ho il diritto, signor giudice, di ricominciare il liceo da capo tutte le volte che voglio. Dani, faresti un'esperienza di merda. È come una partita a Pokémon Platino. Sarebbe un'esperienza di merda. Cioè, nessuno ti considererebbe a scuola. E poi sono ragazzini, quindi non ci puoi neanche ragionare per i ragazzini. Sono cagacazzi e basta. Tipo voi che state guardando il video, smasciate like. Dani, hai meno di un anno per entrare nel Club 27, se vuoi rimanere leggendario. Che Simo alla fine non ce l'ha fatta. Non lo so. Guarda, io lo volevo tanto, però quando ero lì sul punto... Lo volevo tanto. Ho detto, ciao, vabbè, facciamo il 33. Quindi, cioè, arrivi fino a 33 e entri in quel club lì. Voglio farmi crocefiggere. Ah. Molto originale farsi crocefiggere a 33 anni, ma hai fatto nessuno prima d'ora? Qualche normi, però io sono più... Normi? Non definire Gesù normi, per favore. Giusto per curiosità, quanti Pokémon avete voi? Tre. Tre. Io sto catturando il quinto. Ah, che è solito. No, no, nel caso... Cioè, mancano due minuti, nel caso ne usiamo soltanto tre o quattro di Pokémon. Ah, adesso la mia idea di prenderne solo tre non è così male, vero, Tyr? Ma no, ma ce la si fa. Ho preso il quinto adesso, mancano due minuti. Tyr non riesce a prendere il sesto, raga. Penso che cinque sia un numero più giusto. Cittani, non anticiparmi le battute. No. Ok, io ho ingaggiato il mio quinto e credo che sarà questo l'ultimo. Eh, io sto cercando l'ultimo, ma... Cazzo sei tu? Ah, sei un Puciena. No, è che questi cacci li ho già, non voglio... Eh, vabbè, vaffanculo, Bronzong. No, neanche Bronzor. Ero riuscito pure a ingaggiare un Houndoom, ma purtroppo hanno fatto un brutto colpo per farmi piacere. L'hanno buttato in due. Bastardi che cercano la tua approvazione. Ah, è vero, Tyr, tu sei uno di quelli che cerca sempre la mia approvazione. No, cerco il tuo caso. Ma Tyr, non hai mai avuto la pulsione quando vedi un Machok di strappargli gli slippini e schiaffargli una cinquina sulle chiappe? Ah, perché posso farlo anche con gli slippini addosso? Ok, vedo una signora anziana... Vi siete beccati voi due, ma io non ci sono. Chi è il personaggio? Tu ti erai il personaggio femminile? Sì. Qualcuno venga tipo alla Pokéball al centro della stanza se... Ci sono, qua. Ah, sei tu Eren, allora questo. E te l'ho già detto. Ok, allora cominciate voi due, tanto la vostra battaglia non si vedrà, quindi cominciate pure voi due. Vai, Dani, luttiamo in amicizia. Sono il Pokéamico baciato dal karma. Dani, non tirartela, muo, hai vinto una battaglia a Poké, ma smettila. Che cazzo sta succedendo? Sono io, sono io. Fì, che casino. Eccoti, ti vedo. Ah sì, Simo, tu sei una vecchia signora nell'online. Tu sei un giardiniere. Pog, l'altra volta era un allevatore con Dani. Sono Ernesto. Ciao, Guadalupe. Signora, che cazzo... Signora di nome Ernesto. Volete con queste regole? No. Ma, fra. Numero di Pokémon, 126 fino al 50. Scegli la squadra. Sì. Allora. Tutto pronto. Ce l'abbiamo fatta? E si parte. E vai. Attenzione, Metal testata. Aia. Figa. Tack. Devi hittarmi Bora. Hai hittato Bora. Swineup che tira Jugabite. È magico da vedere comunque. Sì, ma già che iniziamo così... Ok, il mio Pokémon più forte è andato. Bene. Eh, vabbè, Simo. C'è ancora tempo. Guarda che io ne ho due di Pokémon decenti. Eh, va bene, va bene. Così che la mettiamo, allora... Madonna, quant'è a meno c'è l'animazione di... Come sbagliato? Simo, ma figa, ma che disastro sei. Non volevo mandare lui. Tanto comunque ci vado KO. Sono cose che succedono. Cioè, su via, dai. Ma quanto cazzo è storto su Einab? Cioè, l'ho sempre visto come un blob. In realtà è tutto quanto deforme e bitorzoluto. Se li togli il pelo, secondo me è tutto buboloso. È buboloso. C'è la peste, cazzo. Tipo, circa. Oh no, sento la pressione dello scontro. Salute, madonna. Salutissimo. Oh no, idropompa no, aia. Il mio povero Duskelops. Aspetta, no, funziona in maniera diversa. Sono un coglione. Hai attivato l'autotune? Oh, voglio, ho premuto il tasto sul mixer, però sbaglio. Eh già, sono un pirla. Oh, mi stai mannaggiando, per caso. Ti sto smannaggiando, sì. Eh già. Ma che cazzo di... Eh, perché... Allora, sui Pokémon che non sono di tipo spettro, ha un effetto diverso. Li boosta semplicemente l'attacco alla difesa. Invece ho sbagliato. Perché lui è spettro. Eh, sono un coglione, Simo. Che ci vuoi fare? Boh, non lo so. Io vado a caso. E vai, grande, che evita l'attacco. Ma con che animazione stupida il mio Pokémon? Eh, comunque ma ci muore il Tentacruel. Ah, non c'è morto. Figlio di puttana. Ah, ma c'è la maledizione, è vero. È servito a qualcosa, alla fine. Santo cielo. Che culo. Era tutto perfettamente voluto. Vai, store di raggio, confondiamolo e speriamo bene. Che palle. Speriamo nelle botte di culo. Che palle. Ma sai già come andrà? Che sono sfigato su queste cose, santo cielo. Dio, Dio, Dio. Switchino, switchino tattico. Tanto è che sei hit. No, tu di fila. Sivo, 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 scusami. Ma vattene a fanculo vai, bro. Stordiraggio, cazzo. Ovviamente tu hitai perché è così che devi andare, guarda. Sicuro entra la hit. Porca puttana, dai, basta. Ma non è possibile, ogni volta devi andarmi male tutto. Qualisiasi cosa, Sivo, sappi che io ti voglio un sacco di bene, ok? Ma non devi dirmelo. Ok, ritiro tutto allora. Dai, mi torta male. Non è più confuso, è durato un turno, non è servito un cazzo. Ma che cazzo mi stai dicendo? Ma la confusione di un turno non l'ho mai vista. Non posso fare niente, cioè, nel senso. Ah, è vero. È mezzo spettro, Sableye. Sì, non posso fare niente. È vero. Come lento sto attacco ad arrivare. Vado di turbosabbia. Eh, cazzo. Turbosabbia è bastardo. E però non ti tolgo niente perché è un fottuto chonk, quel coso. Intanto, io non posso attaccarti, vedi un po' te. Dopo tre turbosabbia colpisci ancora e mi offendo per te. Ma porca. Vai, ancora turbosabbia. Cazzo, mi bisogna una lotta al percorso 2, eh, questa. Ah, ok, vedi, ce l'ha fatta, finalmente. Stagliamolo forever finché non si arrende. Sivo, altri Pokémon, ne switcho uno, hitterò prima o poi. E ha hittato turbosabbia. Dai, dai. Ha hittato dopo cinque turbosabbia. Ma che fallo. Bravo, Sivo, sei il più migliore, ti voglio bene. Sì, sì, certo. Grazie per aver partecipato. No, guarda, questa era la mia ultima partita. E basta. Proprio realisticamente è la mia ultima partita di sempre a Pokémon Perk. Cioè, non lo avvierei più. No, conserverò per sempre questo ricordo. Ciao, Simo. Tu finisci sempre così con ogni videogioco che gli facciamo giocare. O lo disinstalla o lo odia. Ma che c'è vero? O bollore in borsa. Sembra che ci stiamo limonando. Che bella scena. Madonna. Ma Danne è una bella scena. Cazzo, c'è il Pacirisu VGC, bastardo. Tu sei riuscito a prendere Aundum? Io no. Io parto con lo stesso ordine che ho fatto prima con Simo. Prima... No! Dani, ho fatto un errore di sbaglio. Ho selezionato soltanto due Pokémon. E questa volta parte davvero la bella. Dani, sei pronto? Oh yeah, a voi! Sei pronto a vincere questo magico torneo importantissimo tra amichetti? Fai un bel balletto. No, no, Dani, smetti di usare queste mosse da competitive. Mettila, sei in sei troppo intelligente. Madonna, scusa, ho solo usato un canto a spada. Non va bene. Io non ho mosse per bustarmi una sega. Quindi devo fare la mossa più forte del gioco e basta. Sbigo attacco! Oh no, Svinub! Povero! Con quel bel musetto porcino. Mi ha tirato letteralmente un calcio proprio ed è volato via come un pallone da rugby. Sì, ha fatto pure il rumorino tipo... Tipo, Super Santos che si disperde in una tempesta in America alle 5 di pomeriggio. Perché è proprio così specifico? Un po' troppo specifico, sì. Ai, è il Lumis! Aspetta un secondo. Ma Teardva deve essere tutta così la lotta? Mi sa che ti è abbassato il danza spada, sai? No, no, cambio, cambio proprio. No, no, lasciali in campo, cazzo se ne frega. No, voglio provare gli altri! No! Io lo cambio lo stesso. Tipatico. Io mi nascondo, guarda, guarda, sono io quando ho dei contatti sociali. Eh, guarda come si busta di nuovo con Congiura. Eh, non posso fare... Io avrei cambiato il Pokémon. Ok, scusami. Ma quella è una cosa... Tanto muoio ora. Eh, no, per quello, capito? C'è già che non ha terremoto, c'ha fossa, l'hai pure capito. Vai, da, Sclops, incassa questa fossa. Tanto muore, guarda. Eh, incredibile! Questo è un Onix con danza spada, tecnicamente. Ora non più. No! Hai usato Nube? Sì. Tu, maledetto! Oh, no! La pagherai cara! Oh, no, Daniel, ti prego, non lo fare! Ma l'hai mai andato in campo per prendersi divinazione, il povero Golbat? Eh, sì, sì, ho detto vai! Almeno me ne fai mandare uno che a po', grazie. Faustino si chiama. Faustino! No, Fausto! Cavolo, non vedrà mai la laurea della figlia. Vabbè. In cosa si sta laureando la figlia? È scienza della comunicazione. Ah, chiaro, chiaro, beh, classicone. Vabbè, non si perde niente, quindi. No, infatti. Io l'ho lasciata dopo due anni per farlo youtuber, Dani, è peggio forse. Comunque questo Pacirisu non ha elettrococcola e sono contrariato. Poverino. Eh sì, infatti, è l'unica coccola che tollero. Cioè, in realtà l'elettrococcola, Dani, puoi tranquillamente avercela. Basta prendere una forchetta e metterla nella presa corrente. Vediamo se mi entra il secondo tuono di seguito. Sì, mi entra. Ma non penso vada caposa, eh? No, no. Ok, sto zitto. E invece sì. Ha rollato. Ah, che brutto colpo! Pacirisu merda! Lo sappiamo che avresti vinto con Pacirisu! Ah, che brutto colpo!